Avevano preso in mano le redini della gestione della sicurezza nei locali della Movida Regina, perché così bisognava dimostrare il predominio sul territorio. Nel contempo gestivano un fiorente mercato di stupefacenti e corse clandestine di cavalli su una delle più importanti arterie cittadine. E' finita all'alba di oggi l'ascesa delle nuove leve delle cosche Condello e Stilitano grazie ad un'operazione congiunta di carabinieri e polizia che hanno eseguito un decreto di fermo omesso dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di 15 persone. L'accusa a vario titolo è di associazione mafiosa, porto e detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, rapina, estorsione, intestazione e fittizia di beni, maltrattamento di animali. Sono volti piuttosto noti quelli finiti in cella con l'inchiesta a Eracle. Tutto parte dal maggio 2015, quando Reggio Calabria iniziarono a verificarsi aggressioni, risse ed intimidazioni all'interno dei lidi del lungomare. A gestire la sicurezza c'erano buttafuori abusivi, appartenenti o contigui clan, nessuno poteva osare ribellarsi. Chi l'ha fatto è stato aggredito, inseguito e poi ferito a colpi d'arma da fuoco. Le indagini hanno messo in luce come un ruolo di primo piano lo avessero anche alcuni appartenenti alla comunità rom di Argillà inseriti nella cosca Rugolino, un gruppo che poteva contare su un'impressionante disponibilità di armi. Poi, come detto, le corse clandestine di cavalli di domenica mattina con un corteo di moto al seguito sulla Gallico Gambarie. Spicca fra i fermati il ruolo di Domenico Nucera, uomo appartenente ai Condello ma in stretti rapporti con Domenico Tegano, figlio del boss Pasquale. Un'alleanza sempre più solida fra due schieramenti che un tempo si facevano la guerra. Consolato Minniti per la Cinews 24.